Brava, bella, graziata, insomma ce l'ha tutta questa ragazza, complimenti. Massimo, ogni volta che c'è Megan tu ti affacci, ma come mai? Perché è una bella cinghialotta. È giusto, allora facciamo una cosa, ti entri la vicino. Sì, Megan vieni sulla stella, guarda Megan, ora però ti prego ascoltami un attimo, io ti vorrei parlare seriamente, noi belli, come tu ben sai, che ridi, noi belli, grazie per l'applauso, ti amo, ti amo. Dimmi. Dicevo, Megan, noi belli ci usano solo per il nostro corpo, io vorrei insegnarti anche a presentare, così a me lo dicano, però c'è anche un cervello, la bambina, eh? Allora io vorrei insegnarti a presentare una canzone, Raffaella mi ha dato il permesso, se tu presenti con me questo prossimo cantante, poi ci amiamo, eh passerotto? Allora, tu ripeti quello che ti dico, eh? Allora, attenta, non applaudite ora perché è un momento duro per la bambina. Allora, è, allora, Megan, Megan, è, Megan, non lo so, ma Megan gay, non ho il cognome, ma che è? Ah vabbè, oi, oi, è una canzone, è una canzone, che parla di un ragazzo, che parla di un ragazzo, che ha tanto, tanto bisogno di una donna, che ha tanto, tanto bisogno di una donna, di ceccherini, ceccherini, di ceccherini, ceccherini, ah tu ceccherini? Eh certo, chi è? Ma, lo so, ok. Aspetta, il titolo, il titolo, 0338 80, 80, 80 voglia, Megan, non ce la faccio, vieni qua, perché non ce la fa, sono, 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 Emily, me, 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 Emily, gli uomini non mi piacciono, ma le donne le voglio, bella canterona, marzupiale, no scherzo, chiedo scusa, mi piglio un infarto, ovvia, pubblicità, mamma, 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 are you ok, se stai bene? Che cazzo! Fai una cosa, Megan, tu vai di là, così almeno non lo incontri, che canzoni strane, scrive i ceccherini.